Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 5 km di coda tra Calenzano e Ilvivio con la variante Divalico in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece in A11 4 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze 1 km di coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso code anche in Fipilì alla Strassigna in uscita provenendo da Firenze. Città di Firenze fino al 30 settembre per lavori di realizzazione della nuova postazione interrata in via Ghibellina chiuso il tratto da Via delle Casine a Viale della Giovine Italia. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!